La pietra scartata dai costruttori è divenuta attestata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Abbiamo contemplato Dio le meraviglie del Suo amore. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la vittoria. Benedetto è con lui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Abbiamo contemplato Dio le meraviglie del Suo amore.